Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali di Orwell se avesse preso il potere un governo populista? Spoiler, ho scritto un libro! Che ci volete fare? È il destino di noi influencer! Quest'anno siamo io, Alessia Lanza e la prof di Corsievo. Settimana prossima apro un OnlyFans. Ci troviamo in Italia all'inizio degli anni 2000 e precisamente a Cascina Speranza, una fattoria tipicamente italiana che, proprio come il nostro bel paese, pare essere entrata in una spirale inarrestabile di decadenza dopo un passato fatto di fasti e di gloria. È sera e Belloveso, il maiale più rispettato della fattoria, fa riunire tutti gli animali al vecchio granaio per una comunicazione che cambierà per sempre le sorti della Cascina. Se qualcuno dovesse percepire una strana sensazione di déjà vu, non preoccupatevi, non siete né in Truman Show né tantomeno in Matrix, semplicemente il libro è una riscrittura creativa di La fattoria degli animali di Orwell, un libro uscito ormai più di 75 anni fa in cui lo scrittore criticava il sistema dittatoriale comunista usando l'allegoria del microcosmo chiuso della fattoria. Io l'ho rifatto in chiave moderna criticando il populismo. Tanto Orwell è morto e non può lamentarsi. Comunque il libro, a parte le prime cinque righe e l'allegoria presa in prestito, auma auma non ha nulla in comune con l'originale. A partire dalla scrittura, che è molto più leggera, ridotta all'osso ed ironica, fino anche alle metafore e ai riferimenti utilizzati. Ad esempio, il fattore qui muore. E lo fa lentamente e vittima dei propri difetti, perché il fattore rappresenta l'Italia. O ancora, ad un certo punto gli animali decidono di organizzare delle elezioni e sia la forma stessa delle elezioni che i meccanismi che si instaureranno tra le varie fazioni sono dei riferimenti a quelle che io ritengo essere delle imperfezioni della politica italiana. Presenza di lobby, peso dei micropartiti, slealtà e cambi di casacca, insomma c'è un po' di tutto. I protagonisti sono, bene o male, tre. Rex, che da che caso è un cane, che propone di risollevare le sorti della fattoria con il sacrificio ed il duro lavoro. Connor, loca, che vuole riabilitare i volatili come lui, che per troppo tempo hanno rappresentato il gradino più basso della scala sociale. E infine, belloveso, il maiale, figura forte che propone una vita di agi schiacciando tutti i nemici della fattoria. Chi vincerà le elezioni, eh? Chi le vincerà mai? Lo scoprirete solo leggendo Cascina Speranza. Poi, ovviamente il libro non è che finisca lì, eh. Ci sono tutta una serie di colpi di scena, intrighi, lotte per il potere, tutti i vari classici del mestiere. Arrivando al sodo, il libro è acquistabile tramite il link diretto che vi lascio qui in descrizione, oppure su Amazon, o nelle migliori librerie. Vi assicuro che la presenza del mio libro è un ottimo metro di paragone per definire se una libreria sia tra le migliori d'Italia. Ovviamente poi ogni libreria si può redimere, eh. Voi potete ordinarlo in qualsiasi libreria e vi arriva. Ti piace leggere e ti sembra uno spunto interessante? Compralo! Vuoi fare un bel regalo a qualcuno che ti faccia apparire come un grande intellettuale interessante? Compralo! Vuoi una lettura leggera che ti accompagni mentre vai a scuola o al lavoro? Compralo! Vuoi darmi una mano ma non vuoi spendere una lira? Condividilo! Io in ogni caso vi ringrazio tanto per essere arrivati fino a qui. Se siete di Milano in realtà possiamo anche organizzarci, ve lo porto a mano, ve lo firmo, insomma. Scrivetemi su Instagram per tutti i dettagli. Ovviamente seguite la pagina sia Instagram che YouTube per sapere dove saranno i firmacopi e le presentazioni del libro. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!